La categoria è sempre quella dei 65 chilogrammi Chiamiamo all'angolo blu 13 incontri disputati, 6 vittorie, 5 sconfitte e 2 pari Per il team Malatesta Da capena Giorgio Leonardi Giorgio Leonardi Contro di lui All'angolo rosso 17 incontri disputati, 8 vittorie e 9 sconfitte per lui Per il team XC One Gym Dalla Romania Presidente a Roma Daniel Giorgio Ciao Ciao Amore Amore Fa Assur 없다 In Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.